Oggi abbiamo incontrato tutti i sindaci della Val di Sole, Presidente della Comunità, abbiamo comunicato le decisioni che ieri sono state prese al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza e devo dire che fin dall'inizio su questa vicenda ho trovato una unità del territorio nelle sue rappresentanze istituzionali, un senso di responsabilità e una volontà di affrontare congiuntamente questa tragedia sia sotto l'aspetto delle decisioni prese in queste ore e sia sotto la prospettiva che occorre avere di fronte. Adesso ci sarà la prima ordinanza perché riguarda il soggetto che ha causato la morte del giovane, poi ci saranno le ordinanze rispetto agli altri soggetti pericolosi che sui quali nel tempo le autorità, chiamiamole statali o i tribunali amministrativi non ci hanno concesso di poter procedere all'abbattimento e dopodiché c'è il percorso sul far ritornare alle proprie origini questo progetto che ricordo era un progetto che prevedeva una cinquantina di esemplari e non di più e oggi gli esemplari sono più del doppio e stanno creando le problematiche di convivenza uomo-animale che purtroppo i trentini bene conoscono. Nel frattempo nelle zone interessate c'è un presidio rafforzato da parte dei forestali, quindi noi invitiamo ad una vita normale le persone trentine che vivono le zone interessate.